Grazie per il peromia, io prego tutti di stare nei tempi, sono le 4 e 20, noi abbiamo un'ora e mezzo, al massimo devono intervenire diverse persone, la parola a Lino Martone, come l'avamo Lazio, grazie. Vabbè, prima mi aveva già presentato Gianni, io vi ripresento, ho 63 anni e faccio un sindaco di stagione ora da 19 anni, siamo a mezzo secolo, conosco anche gli angoli della campagna e anche le fesserie che vengono a mettere, continuamente. Al di là di questo credo sarà molto ancora più credibile, o meglio compreso, se vi dico anche qual è l'esperienza forte che è stata compiuta negli ultimi anni, che avete visto per televisione, è finita sulle televisioni giapponesi, mi sono solo pentito che quando mi hanno chiesto gli allevatori di bruciare Caserta, gli ho detto di noi, la prossima volta non glielo ripetiscono. E la questione, cito questo elemento perché è un punto di inscrivere fondamentale, l'allevamento bufalino non ha nulla a capire con le arance fatte in afro, o con le olive fatte, o le aranciole fatte in Turchia. L'allevamento bufalino in un minuto è una specie diversa, fanno i furbi quando lo assimilano ai buridi. C'è il CMR in Italia, che sta in buglia, che è specifico per la razza dell'appunto amministratore. Nonostante questo, nonostante gli allevatori erano conosciuti come milionari ricchi di qualche anno passato, nonostante l'allevamento bufalino fino a Foggia potrebbe dare al massimo 250 grammi di mozzarella a famiglia a settimana nell'area dopo tra campagna e mezzo a famiglia. Nonostante un prodotto unico al mondo, nonostante non ci sono concorrenze di nessun tipo, gli ultimi dati sono del 30% messi in mezzo alle aziende bufaline. Non le riesce a vendere perché l'altro 70% non ha i soldi per comprare e non sa che cosa fare. Quindi ho fatto questa premessa perché il disastro va oltre quello che diciamo. È una situazione molto molto complicata, difficile. Non ho noto che basterebbe soltanto portarlo a Roma con la bicicletta per vedere. A 4 milioni di abitanti che tra l'altro sono dei consumatori storici. Detto ciò, il secondo dato, ma questo per dire che non occorre fare tante elencazioni di trami che stanno in tutto il mezzo al giorno e in tutti i tanti, basta per dire da punti di questo tipo, per dire a governo, a Parlamento, a chiunque, ma di che state parlando? Il secondo dato è che io vengo anche da quella terra che state conoscendo per televisione come terra dei fuochi e le grandi fesserie che avvengono a te, il propagandismo, giornalisti da patro soldi, ignoranti, non chiamano mai l'università per discutere. Fermo restando la gravità, un disastro, un disastro, questa camorra che certo non è meno della mafia per il disastro che provoca. Ma questa camorra non inventa il piombo, questa camorra sotterra il piombo, che è un'altra cosa, cioè glielo fa sotterrare. Il problema di fondo allora, le grandi fesserie stanno quando si fa camminare, ed è conto di noi che stiamo qui, si fa camminare l'idea dell'agricoltura come veicolo per propagare le malattie tumorali. Sono fesserie, gravi, certo, quando si brucia va sulle foglie, certo quando si brucia va sul Mars e poi i bovini che sono, che hanno indotto il stomaco possono ingerire, tutto questo va bene, ma questo avviene per i fuochi o quando si irriga per gli interrati. Non esistono prodotti e radici che si alimentano con i velini della terra. Sono fesserie di carattere scientifico che bisogna dire basta, una volta per sempre. Vuoi fare gli agricoltori? E sapete bellissimo che se sbagliate a congimare il terreno quel prodotto non esce, o esce, o esce, non esce troppo, non di qualità, o se ce ne mettete di più sbagliare il terreno, perché le radici non hanno bocca. Ma ho fatto questo esempio e chiudo qui per dire che allora questo è un punto strategico da cui ricavare la conclusione di come andrà avanti questa sera, di tracciarne una nuova sintesi. Io sono venuto qui, ho detto a Tano e a Fabris, dove ci sentiamo continuamente, non facciamo un altro movimento, un'altra campagna giornalistica, un'altra campagna giornalistica, né un'audizione, lanciamo una proposta politica sindacale al mondo delle campagne italiane. Oggi, dopo l'esperienza negativa di questi anni, io dico in tutte le cose, diciamo, lezione. Tra la sindesi partendo da questo punto di fondo e vado alla fine, nel senso che quando è avvenuto e avviene è il risultato dell'antropoziazione. Poi la camorra viene dopo. Il risultato di uno sviluppo in crisi, che non ha più prospettive, che occorre cambiare radicalmente. La camorra è stata utilizzata da questa crisi. E perché prima della terra dei fuochi, allora, lo diceva anche l'onorevole, prima ci sono gli oggi, eh? E il mancato controllo dei mercati e delle grandi multinazionali in Italia. I più pericolosi sono questi. Ma da qui ne ricaviamo una condizione di fondo. La condizione di fondo, la possiamo sintetizzare così, ritorna il problema della terra in Italia. Del nuovo rapporto città e campagna, soprattutto in Occidente e in Italia che è uno stivale e con la questione del meridio della terra. Ma non più la terra della di fondo degli anni 50, occorreva spezzare. Non più la terra e le campagne da incoverire perché la città aveva bisogno di mano d'opera a basso posto come negli anni 50 e 60. Ma oggi viene nuovo al centro, il problema della terra, per vivere, per campare e non solo di coltiva la terra, per campare la città se non muore. Ed è questo che viene fuori da questo movimento. E di fronte a questa situazione che facciamo? E dobbiamo innanzitutto fare chiarezza per i ridicoli numeri che vengono dati circa le forze che lavorano nei campi oggi. C'è un istituto che si chiama GEA, onorevole al fatto, che ha i dati dell'anagrafe aziendale. Noi inventiamo i numeri. Stanno lì tutti i numeri. Sappiamo quanti ne siamo. qui la GEA rifornisce. La GEA rifornisce ma si fa il censimento e vengono fuori due milioni di aziende che non esistono. Tutte iscritte alla Conde. Tutte iscritte alla Conde. Tutte iscritte alla Conde. E sono alla Camera del Commercio, facendo siccome sono dati liberi, dalle Camere del Commercio li ho sommati più di una volta. Non sono più di 850 mila le aziende iscritte in Italia. Di queste, almeno in parata per cento, sono o part-time o hanno un'altra attività, IVA, eccetera, eccetera. Di fronte a questa situazione bisogna allora farne mente locale, occorre cambiare l'industrazione completamente, occorre cambiare i rapporti di forza, occorre chiudere radicalmente una fase storica di col diretti, CIA e Coppa di Cultura. Occorre perché anche le altre organizzazioni, come la CIA, che ho lavorato per anni, sono il risultato di un'alternativa da col diretti. Oggi non ci sono più un'alternativa da col diretti. Una nuova unità si può costruire da una vita a un nuovo schema organizzativo, dove si organizza proprio questa sistemazione nuova. i coltivatori e chi produce per settori produttivi. Domino, pofino, aranje, me, per settori produttivi. Ma anche e soprattutto in cui voleva arrivare, la costruzione di nuove alleanze, di nuove unità, un nuovo protagonismo della lotta per la terra. Io propongo che da questa sera, altra rivoluzione, con le presenze che ci stanno, faccia una proposta a tutti i movimenti italiani perché si costruisca una nuova alleanza per la terra. Una nuova alleanza per la terra. In cui non scriviamo soltanto tipo luce, ma scriviamo anche le grandi aree, i cittadini delle aree antropizzate che hanno l'obiettivo di ricomporre la terra e il loro ciclo. Un qualcosa di massa più grande e più ampio, diverso da scrivere del passato. Ci dobbiamo mettere l'impegno. Tra questo e concludo, ci sono cose anche però immediate. Oltre alle cose scritte nella piattaforma che abbiamo presentato, non lo dico al senatore che stava qui, le cose fatte vanno bene, ma si cambia anche il codice civile. E la si finisca di fare dell'agricoltura l'impossibilità di procedere a istanze di fallimento. Voi sapete che il codice civile non consente la procedura di fallimento per le aziende agricole, ma solo l'istanza di mezzallasta. C'è un agronomo lì, un ragazzo che mi sta aiutando, che spero diventerà un nuovo dirigente, anche a vostri professionali, io ho fatto un conto, lo dico al senatore e all'onorevole. Se un commerciante va in fallimento perché deve dare 200.000 euro a una banca, c'è la procedura di fallimento e costa il 30-40% salato. Riduce, paga, finisce. Un'azienda agricola che ha 200.000 euro di esposizione bancaria e da un'azienda di 200.000 euro di valore viene venduta per il 30% senza che lucificare. 10.000 euro posti. Viene venduta così. Bisogna cambiare il codice civile. Per niente. Bisogna cambiare perché si sta creando una disparità di diritto che non è più possibile portare avanti. Oltre al fatto, in genere, la Costituzione italiana, un principio preciso. Non si può annullare l'impresa. Fa migliare. Staci dentro nella Costituzione italiana. Questo è un punto, ma dico all'onorevole Alfano, subito, non lo so se sarà l'elettore parlamentare europea, ma bisogna superare la ferrancinosa normativa sulla contrattazione di fidere e interprofessionale. Bisogna superarla immediatamente. Senatore Stato, che sto parlando, le associazioni di prodotto sono una cosa. loro fanno accordi commerciali. Ma se vogliamo controllare imbroglioni, produttori, trasformatori, le coppie che vengono da tutto il mondo, non si fa solo in un modo. Creando la libertà di contrattazione sindacale tra produttori di un settore e chi trasforma e chi commercia. Perché poi chi viene a controvertire. E questo è possibile o non è possibile. Ci sono centomila merci in questo Paese. E dico al senatore, è una cosa vera che la comunità fa quello che fa. Però, senatore, ci sono regolamenti che creano problemi. Ma ci sono gli accordi di Mastri e le regole generali che dicono anche altre cose. io ho una cosa unica al mondo e me la organizzo io. Ti piace o non ti piace. Il problema di fondo è che chi va a governare fa l'elemosina, fa il servo qualche volta. Perché se si sabbatte e dica e dice al presidente di turno io faccia così, ti piace o non ti piace, si fa. Ma non lo si fa mai. Questo è il punto. Questo è il punto. Detto questo, occorre finirlo. Ricomporre questo. Occorre immediatamente intervenire su questioni che hanno creato un blocco di potere sulla gestione dei K. Liberare l'anagrafe aziendale. Occorre avviare subito di una condizione di profonda riforma dei consorzi di bonifica e del cambio di commercio perché sia chiaro in Sardegna non lo dice nessuno ma la responsabilità di fondo è quello che è successo tra i consorzi di bonifica. Si marcia dei consorzi di bonifica con uno strumento gestito da tutti i cittadini. Io finisco dicendo usciamo da questa sera con una proposta al mondo italiano delle campagne, delle città, dell'agricoltura per che si faccia una nuova alleanza. Grazie. Grazie. Allora.